Il restauro della tela, il dipinto del transito di San Giuseppe, è una bella tappa nel recupero del patrimonio storico-artistico, non solo della collegiata di Santa Sofia. È stato svelato il quadro restaurato del transito di San Giuseppe nella chiesa di Santa Sofia a Giuliano. L'opera di grande interesse sia artistico che spirituale è stata sottoposta ad un lungo e articolato lavoro di recupero. È una tela che era veramente molto rovinata e degradata. Il dipinto, un dipinto di metà Settecento, presentava molti tagli longitudinali a causa di un vecchio intervento di restauro, diciamo, all'inizio del secolo. E questo ci ha permesso di usare delle nuove tecniche di restauro e abbiamo fatto una sarcitura di queste cose. Si può capire che, insomma, ricongiungere ogni filo della tela, laddove erano presenti molti tagli, è un intervento che richiede il suo tempo. Ed infatti noi abbiamo impiegato diverse settimane, però, insomma, ad oggi il risultato è ben visibile, tant'è vero che non si vedono più questi tagli. Un bene culturale di gran valore non solo per la chiesa, ma per la comunità tutta. Il restauro della tela, il dipinto del transito di San Giuseppe, è una bella tappa nel recupero del patrimonio storico-artistico, non solo della collegiate di Santa Sofia, di Giuliano, ma per la chiesa e per l'Italia, perché diventa un tassello di questo mosaico di non solo recupero, ma di rivoluzionare il mondo con la bellezza. Bisogna recuperare tutte le tele che sono, diciamo, in uno stato di degrado e questo è un grande segnale della collegiate Santa Sofia. Speriamo che l'amministrazione comunale riesca a dare un contributo, anche in termini economici, per il futuro, per il restauro di altre tele.